Insomma, nella notizia di questo passaggio, di questa nascita del gruppo Italia Viva, si può dire che è Flavio Bartolini il nuovo capogruppo. In realtà i rumors su questo passaggio Italia Viva c'erano già da diversi mesi. C'era troppa maretta all'interno del PD, Bartolini. Allora, io già avevo abbracciato la mozione Giacchetti Ascani, quindi la mozione più riformista durante l'ultimo congresso. Mozione che poi in gran parte è passata lì in Italia Viva. All'inizio ho avuto forti remore perché io sono nato col PD politicamente, devo ringraziare tanto il Partito Democratico, sono stato lì 12 anni in pratica e quindi ho avuto questi mesi di riflessione forte, è solo che mi convince sempre più il riformismo radicale che sta portando avanti Renzi rispetto alla posizione che ha il Partito Democratico. Quindi questa scelta era già nell'aria da tempo e quindi adesso ci siamo decisi, quindi cercheremo di riportare questo nuovo vento di politica nuova, di riformismo, che Italia Viva sta interpretando seriamente. Il PD se ne ha accorto solo ieri, Zingaretti, che ormai non erano più i tempi di fare quel tipo di politica, ma c'è bisogno di rilanciare il paese d'Italia e le proposte dell'Italia Viva mi convincono sempre di più e quindi a questo punto ho deciso di arrivere l'Italia Viva. Certo, le proposte convincono, però anche magari il trattamento, tra virgolette, ricevuto nell'ultimo periodo all'interno del Partito Democratico, del gruppo consigliare, non so, si è sentito anche con Massimo Speca. Non penso che abbia preso bene la notizia, anche il capogruppo piloti, in fin dei conti. Il PD perde un consigliere. Allora, lì c'era stato un... non ci eravamo capiti, c'era stato un misurante stenga, come si dice. Quindi ci siamo chiariti, soprattutto sulla commissione bilancio, ci siamo chiariti, quindi i rapporti sono ottimi, i rapporti umani sono ottimi e non c'è nulla di personale assolutamente, semplicemente questa voglia di affrontare una nuova avventura con dei principi politici nuovi, diversi, dare anche uno stimolo a questa maggioranza che secondo me sta facendo bene con le difficoltà che ci sono e quindi rilanciare ancora più l'azione amministrativa su terra, massima realtà al sindaco, assolutamente, massimo appoggio, lavoreremo su tante proposte e cercheremo quindi di dare una mano forte a questa amministrazione. Chiederete anche un altro assessorato, visto che adesso il gruppo è a tre, però da Rumors sappiamo che probabilmente si allargerà. Ma non è questo il discorso, non possiamo far passare questa azione politica come una tattica, per chiedere, assolutamente no, il nostro intento è la voglia di rilanciare l'iniziativa politica e di far crescere Italia Viva e di aiutare tutto il centro-sinistra, noi siamo nel centro-sinistra quindi cercheremo di aiutare tutto il centro-sinistra con idee nuove, propositive e quindi non rivendichiamo nessuna posizione, non avrebbe senso. E quando verrà Matteo Renzi a Teremo? Ah, questo vedremo a breve, ci stiamo organizzando.